Jack, a te di nuovo la luce della diretta. Io vi farei vedere il classico, uno dei miei effetti preferiti, visti da video, che ovviamente se si vede, se la qualità rende, è il seguente. Boh, innanzitutto andiamo a scegliere la nostra solita magnifica carta, che in questo caso, se posso guardarla anch'io, è un bellissimo tra di cuori. Yes, ci piace rispetto al 2 di picchi, soprattutto a noi uomini. Ci piace rispetto al 2 di picchi, esattamente. Esatto. E per trovare il 2 di cuori il metodo più semplice è questo. Si prende una carta qualunque, ok? In questo caso un 2 di cuori, ok? Ma uno non mi piace tanto, quindi... Ah, andiamo a sdoppiarlo. E quindi questo è il metodo più facile per trovare il 2 di cuori insieme alla carta scelta. Figata. Questo è uno dei giochi miei preferiti. Grande, grande, grande.